La Crozetta Quando hanno detto che la Crozetta è una maia scaloniera? Voglio cercare una scusa per difendere questa cosa e giocare la fede della settimana solamente per l'amore della grana. Ma che maia? Ma che braghetti? E' un gioco per dire Don Leti? Mi vuol dire che lo portate per il compenso di una qualche psaida. Sangue grinta e sangue cor, le mie cambiano il giocatore. Sti bene e ti è morto!